Costano molto alle casse comunali i rifiuti potenzialmente infetti da Covid-19. Sono oltre 5.000 euro che l'ente comunale guidato dalla sindaca cecilia francese deve all'inceneritore di Acerra, presso cui la spazzatura è stata conferita nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Nel periodo della pandemia, i rifiuti che i nuclei familiari con componenti affetti da Covid-19 erano trattati come speciali. Alba, la società partecipata del comune che si occupa della gestione dell'immondizia a Battipaia, doveva giustamente raccogliere anche tali materiali, senza però la possibilità di stoccarli in situ al fine di evitare occasioni di contagio. Nulla è mai stato documentato, giusto sottolinearlo, ma tali erano le disposizioni ministeriali e dunque non si poteva agire diversamente. La regione Campania, all'epoca dei fatti, decise il trasporto e la distruzione del materiale, possibilmente infetto e fonte di contagio, nella struttura di Acerra, dove sarebbe stato incendiato e dunque distrutto, eliminando ogni pericolo. L'operazione ha avuto però un costo e oggi il comune battipaiese si è trovato a dover far fronte a tali spese. Quanto liquidato gli oltre 5.000 euro di qui sopra, non andranno ad Alba, che ha già incassato circa 10.000 euro per il medesimo servizio, ma alla regione Campania, che ha emesso relative fatture. Il covid e di conseguenza le decisioni assunte dagli organi governativi continuano dunque a pesare sulle casse comunali e sulle tasche dei contribuenti, che si trovano ancora a pagare servizi relativi agli anni passati.